Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Mi so che mi sto... Attimo, sicuro che mi sto smarrendo attimo. No, aspetta! Aspetta! Quindi il problema non è il fatto che lui continua... E il 2.6 da PC è difficilissimo da usare. Ale, a noi che cazzo ci frega. Noi siamo i pazzi furiosi. E te dirò di più. Ale, non so che hai bettato, ma fammi vedere, lo posso pure dire. Hai bettato sì, Ale. Ah no, hai pronosticato o no? Allora, Ale, te che mi vieni a romper cazzo, che non credi in queste due mani, beccate subito la fuorileggio o la principez. Ezz. Sì, ma manco se me ci impegnavo trovavo sta... 5, 3, 4. Per interpretazione, non mi rompete i coglioni. Ma è mutuo, lo è subito, Matumbo. Sì, ma è subito, Matumbo. In nord Italia dicono così, al sud Italia dicono in un altro modo. Ma che... Matumbo è... Porco, Dio, mi è cascata la gamme, le gaspe, mi è cascata il cammino. No, come... No, no, non so che prima o poi alla fine. Sono positiva. Fortunatamente ci sei tu a tenere compagnia a tutti noi cavalli ammalati. Mi cazzo sarà perché l'hanno pagato. Mi tocca fare una colletta per far venire il canone. Vabbè, ma quanto vuoi che debba costare Yoshimitsu, scusa. Vabbè, Yoshimitsu costa. No, cazzo. Dai, intanto gli dai una piotta e la mette su FIFA, tapo. A Yoshi basta dirgli che domani escono le Icon se vengono a giocare. Addie, ma che cazzo dici? Lui gli dici così e arriva subito, Yoshi. È che non c'è tutto sto cazzo, non c'è tutta sta... Guarda che... Sborra! 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 No, 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 no! Sborra! No, 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 no! Tu cazzo la cappa perché se vattene scorso e vattene scorso? No, 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 no! Marzone, no, no, no! Non ho sacco da mangiare, piglio! Ragazzi! La sborra? Tua madre se non ha ingerito e poi tu mi dici... No, 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 no! Se poco Dio va tolta questa... Ma non è che una pranzacena ingerisce, cioè che cazzo vuol dire? C'è bene, un documentario! C'è bene, un documentario! C'è... C'è pure un documentario di sta tipo che... Di sta tipo che... Di sta tipo che... Per fonte di nutrimento, togliete quella X! Esatto, esatto! Esatto, esatto! C'ho tre persone... Comunque ce l'ho fatta su Erf Mago! No, no, ma lo devono fa... BINGO! Oh, mazzo! BINGO! Doppio bingo! BINGO! TRIPLO BINGO! TRIPLO BINGO! Eh, sì! TRIPLO BINGO! TRIPLO BINGO! Attenzione! Qui si crea... Mi ero dimenticato di questa possibile situazione! TRIPLO BINGO! Come l'altra volta! Mo... Teoricamente prende... C'è... Mo fa il sorteggio! No, no, zi! Mo fa il sorteggio, zi! No, non più il primo! Mo fa il... Mo il... Il... L'applicazione fa il sorteggio! Un VIP, un salvo, un ban! No, 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 no! Il cazzo, il cazzo, il cazzo! Ah, frate! Eh, no, eh... Che... Dai Erf Vip a tutti e tre! Porco Dio! C'è... Ah, c'è... C'è una licenza poetica, bro! Poi fa quello che te va! Buffo, baffo, 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 baffo! Pazzano, ma perché è dura, no? Ma me ne cazzo e cazzo! Allora, capo! Cinque minuti! Ce sei? Vai! Ce l'hai aperte le cose! Allora, i cavi semplici, quelli dove sei il boss! Eh! Due cavi bianchi e uno nero! L'ultimo... L'ultimo è bianco? Sì! Taglia l'ultimo cavo! Ah, oddio! Se non ci sono cavi rossi, taglia il secondo cavo! Eh, me devo un attimo scalare! Se state da cellulare, avete questa cosa, ci cliccate sopra e vi porta a quella al centro! Vi porta quella al centro, da lì riscattate la cartella gratis e se ne volete aggiungere altri, fate più più e aggiungete quante cazzo ve ne pare! Sei con le gratis! Cinque più una con la gratis, ok? Ogni tot, eh! Quando finirà il bingo, io dovrò riavviare un altro bingo! Quando riavvierò un altro bingo è capace che succede quello che ci sta tutto a sinistra! Cioè che dice al momento non è in corso nessun bingo! Se vi dice al momento non è in corso nessun bingo, è perché lo sto ricreando! Dopo che lo ricreo, provate a fare, ad aggiornare, anche quando dovete riscattare la cartella gratis, provate ad aggiornare alle volte se non la vedete, se siete sub, ovviamente, anche chi hanno giftato la sub e via dicendo, c'ha la sub, c'ha la cartella gratis, e... e ve dovrebbe dare la cartella! Detto questo, questa è la spiegazione! Mancano 15 secondi! No, prendiamo se cazzotti! Io ti espremo come la lancia! Prendiamo se cazzotti! Prendiamo se cazzotti! A sto punto! Eh! Vai! Ma molla! Ma molla! Ha! Odio le cuffie! Marzo! Non lo so! Non l'ho fatto! Odio cane! Che cazzo mi chiede? Magari ti riesce meglio! Non lo so! Non mi riesce, porca madonna! Non mi riesce, Marzo! Dio! Dai, dai, Marzo! Ti prego! Ti prego! Ti prego! Ti prego! Secondo me, bro! Secondo me è così, secondo me funziona! Marzo! Sotto! 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 Sopra! Sopra! Sinistra! Sotto! 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 Ok! Terzo! Quinto! Quarto! Sesto! Eh? Terzo! Primo! Non esiste! Che mi stai piappi il culo! Sì, siamo morti da tre anni! Sì! Sì! Cioè! Senza fare come... Ma che dici? Stai levando l'udrinatorio! Ma fatti! Ma fatti! Ma per te la U era clamorosa per noi! Una parola no! E' proprio non me ci metti più da! Ubi sta! Ubi sta! E' purissimo! Ah! E' mo schermo destro e schermo sinistra! Ok! Ah rica che ne pensi... Ahio che ne pensi da Among Us? Clippate! Mannate chiela! E' così! Insomma! Ah 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 ah! Io una cosa sola voglio dire a me non mi importa chi è impostore io voto Diego Ragazzi allora Ragazzi allora ve lo dico Sto mangiando cereali con latte e non disturba nessuno Ma non per i coglioni Pronto Ok va bene va bene Sì no non ci arrivo a 6.000 Ti annichiliscono poi